In piedi, appoggiati allo schienale della sedia oppure alla schivania, pieghiamo le gambe cercando di portare il peso indietro e di caricare quindi i glutei. Lo squat è un esercizio che si presta ad essere eseguito sia in accosciata completa che in accosciata incompleta, le gambe sono divaricate, inspiriamo quando andiamo a fare l'accosciata ed espiriamo quando risaliamo verso l'alto ed estendiamo la gamba. Affondi dietro, manteniamo in appoggio una gamba e con l'altra gamba andiamo ad estenderci dietro e ad appoggiare l'avampiede a terra mantenendo sempre il tallone sollevato. Espiriamo ogni volta che andiamo ad appoggiare il piede dietro a terra. Ispiriamo quando siamo fermi al centro in posizione di partenza. Per la gamba d'appoggio il ginocchio non deve mai superare la punta del piede per non andare a caricare l'articolazione del ginocchio appunto.